Buongiorno ragazzi, bentornati su Rainbow Oggi ci troviamo qui tutti belli tranquilli con Valkyrie Per fare... oh lì dovete aprire raga Qui dovete aprire amici miei, avanti, lì tu piazzi Qui hai piazzato, potrei mettere un rinforzo anche qua così Possono entrare direttamente dalla porta ma almeno è protetto là Ok, questa è la primissima partita del giorno In descrizione come sempre raga trovate il link di G2A Per scoprire giochi a prezzi scontati o se vi servono anche PSN card per giocare Porca vacca devo piazzare le telecamere Mannaggia, 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 mannaggia raga 3, 2, 1, vai! Mamma mia, la classe, i tre punti Poi piazziamo Una cam qua Non so se può andare E l'ultima cam, non so dove piazzarla Fatemi vedere Bella, mi piace questa raga Che puoi guardare fino sotto anche nell'altra scala Bella, bella Non l'avevo mai piazzata E qui qualcuno chiaramente deve stare fermo sulla telecamera Porca vacca Allora, serve Un'altra telecamera da un'altra parte Allora Questo qua è morto sulla telecamera Non me la fa toccare Bene Ah Adesso spareranno come degli animali qua Pronti, attenti Tanto di qua non possono arrivare Guardalo, guardalo il Fuzz Mannaggia, mannaggia Il Fuzz da quella Come ha fatto a piazzare È vero Ma dai, era lontano un chilometro e mezzo Ma come cazzo Ci ha fatto in due? Se quello lì non moriva su quella cavolo di telecamera Vedete che bella che era Potevo controllare Mannaggia Oh Qui qualcuno è entrato in bomba L'ho visto Incredibile Andiamo in prima persona Bello, bello Jekyll Controlliamo lì Uno era morto Due contro uno Col coltello Ottimo Mira però pochissima vita L'ultimo È un punto di domanda Lo sto sentendo a destra Ah no È lui Mira Bella, bella Cavolo Dov'è chi era attaccato il tipo? Perché era solo attaccato uno così Guardalo il maledetto Ed eccoci qua Secondo round Guardalo quello lì Che cerca di fare spawn kill Guardalo Porca vacca Vabbè Raga Non credevo che salisse sulle scale Invece quello lì è andato Boh La gente è matta Cinque contro quattro Io ho voluto scegliere Subito qua Il Bellissimo Sniper Lì hanno tutto quanto barricato Maledetti Con mira da quella parte lì Non posso fare assolutamente nulla qua E io veramente raga Eh qua mi seccano raga Devo scendere Lì ho rilevato all'esterno Lì c'è il mira Mi vedono Non posso shottare nessuno La Niente Abort mission Io veramente le cose di Fuzz Le sto odiando A non finire Perché se uno mi lanciava là Una granata Ah C'è una telecamera di Valkyrie Qua in giro Stavo dicendo Se uno mi lancia una granata Non muoio Non morivo Da Da quella distanza No Guarda a caso Ti ha Devo dronare raga Ah non ho più il drone Bene bene Due contro quattro Uno contro quattro Eh Ce n'è uno qua dietro Non ho più il drone Managgia Dove era la tele Una telecamera dentro c'era Ma li potevo Forse fare ragazzi No Che sfortuna Incredibile Perché se non c'era quella telecamera Io ne avevo sentito uno a destra E quindi quello 100% ragazzi Entrava dentro Nella porta Dove Nella mia porta di destra E porca vacca Raga che sfortuna Maledetta telecamera Oh Non era detto che Riuscissi a farmi un clutch così Però è già capitato Però è già capitato ragazzi E con glass così Queste cose qua si riescono a fare Però porca vacca La telecamera dentro Una cavolo è una cavolo di telecamera dentro Io non ci voglio credere Vabbè Siamo a 5 secondi Lì è assurdo raga Continua a shottare la gente Cioè Fuzza è troppo OP Se piazzi le cariche giuste Ti devasta troppo Quelle cariche Anche a me prima Ero dall'altra parte Mi ha shottato con 100 di vita Cioè ma come cavolo è possibile Occhio Mannaggia Uuuuh Il tempo scade tra 10 secondi 17 Rimangono 5 secondi 5 Mamma mia Due a terra Non me ne ero reso conto Quarto round Siamo prontissimi Con il nuovo IQ Con le bombe Sto IQ raga Mi sta piacendo un botto Veramente Via Veramente Non è niente male Dove cavolo è la Eccola là Mamma mia Le skill con la pistoletta silenziata Veramente Ok 5 4 L'ultimo sarà Pulse Non c'è nessuno Via Oh Te muovi Ma cavolo Come l'ho shottato Raga Dovevo morire là Veramente Come cavolo ho fatto A prenderlo Credevo fosse uno Della mia squadra Invece era Quello stramaledetto Di bandito Il drone è pronto Raga così Guarda Porca vacca Ho il tempismo Ti prende Cavolo In contropiede Perché dici Cavolo C'è il mio compagno di squadra E in quella frazione E in quella frazione di secondo Ti vengono in mente 800 miliardi di cose Dove mi ero Cosa faccio Sparo Peccato Quinto round Purtroppo E' andata Come andata Questa volta Ci dotiamo Di Jäger Ripariamo un po' I muri Raga Sono veramente Delle situazioni Quelle là Che Eh Ditemi Nei commenti Se vi è successo Anche a voi Perché veramente Lì Vi coglie Un po' Impreparati Qua c'è Fuse Sta Sfiuzzando Come non ci fosse Un domani C'è nessuno Qua Cioè Zero Cioè Sono passati Tutti da sotto Io non ho parole Raga Io non ho parole Cioè Ci hanno Fregato Perché Uno magari è andato Da quella Questa qui E' la nostra Ultima Possibilità Altrimenti Avranno vinto Gli altri Sicuramente Adesso c'è Pulse Che mi fa Dai 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 Raga Dai 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 Cavolo Confuso Ho creato Il panico Porca vacca Che prima sono morto Come un pivello Adesso Fuse ha creato Veramente Il panico Più totale E ritorniamo Più aggressivi Che mai Allora Distruggiamo Quella Ottimo Ho voluto Prendere Twitch Così Almeno Li Conzecchio Un pochetto Ah Lì era aperto Pensano Di farmi paura Invece Io vi corro Così davanti Proprio Spavaldo Fammi Prendere Questo 3 2 1 Ole Mamma mia Lancio da 3 punti Perfetto Ok 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 Cosa fai qua Smocca Bella Bella Cavolo Un po' Con i miei Spunzecchiamenti In giro Buono Col montagne Come l'ha fatto Stava ricaricando Ottimo Ed eccoci qua Anche noi Nella loro stessa Identica Posizione Abbiamo però Anche noi Mute Non abbiamo un bandit Però dai Potrebbe andar bene Ugualmente Uh Guardali là I maledetti Che cercano Di rompere Tutti là Raga Guardali Guardali Non ci credo Veramente Porca Vacca Cambio caricatore Nuovo file No Sono morto Via Bella 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 Oh il C4 Non me l'ha contato Ultimo nemico Rimatto Mamma mia Cosa mi sono mangiato In questo spot Raga Cosa mi sono Mangiato Veramente una cosa Assurda Per fortuna Che il mio compagno Di squadra Era pushato Io l'ho fatto Da quella C'è andata bene Ragazzi C'è andata bene Potevamo perdere Il round Per la mia cavolata Comunque 7 5 E 4 57 Di connessione Bastard Si porta a casa Il match O tutta la squadra Ha fatto un botto Di assist Cioè 5 assist Io Due diamante Con me Gli altri Platino 3603 Ho perso 16 punti Ho perso Un botto Di punti Vabbè Perché ci sono Gli oro Che non valgono nulla Perché ci ha trovato Gli oro Se siamo platino E diamante Sto gioco Non lo capirò mai Raga Comunque Spero che la partita Vi sia piaciuta Commentate Condividete E al prossimo video